Ciao a grande e benvenuto in Instagame. Se sei qui è perché hai capito il potenziale di questa piattaforma e magari hai già delle discrete competenze e vuoi sempre di più. Magari semplicemente vuoi capire il mondo dell'influencer marketing o semplicemente dell'Instagram marketing. Magari vuoi diventare un Instagrammer e creare contenuti di valore in qualsiasi situazione, su qualsiasi pagina. Beh, sei nel posto giusto. Ciao, sono Giada Musini e sono una social media marketer. Cosa faccio? Creo campagne pubblicitarie per le aziende che possano aiutarli ad aumentare il proprio fatturato attraverso la ricerca costante di utenti che possano loro trasformare in clienti paganti e poi dunque fidelizzarli. Questo permette all'azienda di avere costantemente un numero di clienti che li pagano e nel medio e lungo termine quindi si convertono a clienti che continuano costantemente a pagarli. Tutto questo attraverso delle semplici campagne pubblicitarie su Facebook, su Instagram o su LinkedIn. Quindi, perché ho creato questo percorso? Ho creato questo percorso per aiutare tutti coloro che sanno che Instagram ha del potenziale, ma non sanno ancora bene come muoversi all'interno di questa applicazione. Anzi, di questo ecosistema, perché in realtà Instagram secondo me è un vero e proprio ecosistema. Oggi, tutti i giorni, combattiamo con il fare la differenza a livello online. Magari siamo degli imprenditori, magari dei liberi professionisti, magari dei social media marketer e ci scontriamo tutti i giorni con la freemium economy. La freemium economy, quello che viviamo tutti i giorni, la battaglia del prezzo, magari c'è un'azienda che fa delle magliette più belle di altre, magari hanno praticamente la stessa immagine ma hanno due prezzi completamente diversi, hanno contenuti diversi. Oggi non è più l'azienda a fare la differenza, ma agli occhi del cliente è lui stesso che può scegliere l'azienda di cui fidarsi. Non è più l'azienda che ti tartassa, ti bombarda di informazioni e tu quindi scegli quell'azienda perché sai che ha fatto pubblicità perché è la migliore. Non viviamo più in questo mondo, viviamo nel mondo in cui tutti hanno la possibilità di fare campagne pubblicitarie e quindi diventa sempre più difficile scegliere il migliore di un determinato settore. Quindi, se sei qua, è proprio perché andremo a vedere tutte queste strategie e come fare la differenza attraverso quattro step. Innanzitutto andremo a vedere l'identità online. Qual è la tua identità? Chi sei tu a livello di marketing online? Che cosa vuoi fare? Quali sono i tuoi obiettivi? Andremo a identificare quindi tutto questo e come posizionarti a livello online già dal primo step. Nel secondo step invece vedremo la creazione di grafiche e di contenuti. Quindi andremo a vedere proprio come dare valore all'utente attraverso la creazione di grafiche, la creazione di video, la creazione di contenuti di valore costante in qualsiasi situazione. Il terzo step riguarda la strategia. Andremo a vedere a livello strategico come muoverci, come riuscire a settare il nostro strumento di marketing. Nel quarto step, ovvero l'ultimo, andremo a vedere come fare la differenza, come portare traffico nel nostro sistema di marketing e come ottimizzarlo a seconda di ciò che proponiamo. Tutto questo lo vedremo in Instagram Pro. Quindi con questo, con questo video introduttivo, io ci tengo nuovamente a farti complimenti e ci vediamo al prossimo video.